Benvenuti piccoli amici. Oggi vi racconterò la storia di Sam e di un amico davvero speciale. Un cane luminoso come le stelle. Un'avventura magica che vi farà sognare. Se vi piace questa fiaba, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per altre storie incantate. C'era una volta un bambino di nome Sam che viveva in un piccolo villaggio isolato, circondato da prati verdi e foreste rigogliose. Sam era un bambino molto curioso, che spesso si sentiva molto solo, poiché nel suo paesino non c'erano tanti altri bambini della sua età con cui poteva giocare e passare le giornate. Un giorno, mentre esplorava un sentiero vicino alla sua casa, vide qualcosa di incredibile. Un piccolo cagnolino dal pelo luminoso, come se fosse fatto di polvere di stelle. Sam e il cagnolino si osservarono per un momento, poi il cucciolo gli fece cenno di seguirlo. Il bambino, sorpreso e affascinato, iniziò a camminare accanto al suo nuovo amico. Il cagnolino speciale lo guidò attraverso il bosco, portandolo in luoghi che Sam non aveva mai visto prima, radure piene di fiori colorati. Un lago che brillava sotto il sole e infine una collina da cui si vedeva tutto il villaggio. Arrivati in cima, il cagnolino si fermò e guardò Sam. Fu in quel momento che il bambino si rese conto di quanto fosse speciale quella creatura, non era semplicemente un cane, ma anche una guida che gli stava mostrando il valore della natura, dell'esplorazione e della scoperta. Sam capì che anche quando si sentiva solo, la bellezza del mondo era lì, pronta ad accoglierlo, e che bastava avere il coraggio di guardarsi attorno per sentirsi meno soli. Quando il bambino si voltò per ammirare il panorama, il cagnolino svanì nel nulla. Ma ora Sam non si sentiva più solo. Portava con sé il ricordo di quell'incontro e un nuovo amore per il mondo che lo circondava. E così, Sam ha imparato che il mondo è pieno di bellezza e magia, basta guardarsi attorno con curiosità e cuore aperto. Grazie di aver seguito la mia avventura Twinteliani. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere nuove avventure. Alla prossima storia. Ciao ciao